Ma quello che c'è a posto del backpack? Non so. La chitarra. Sembra che c'è la faccio alla fine. Ma era... No, no, pensavo fosse arabesque. Arabesque? Arabesque. Scalcano. Mamma. Eh, è morto. È morto. Non hanno l'hide. Che tesi. Eh, ma non le ho visti gli hide per terra, non ho neanche sentito il rumore. Ma raga, silenzio. Probò. Ma è morto. No, non ho morto. 85? Non è morto. Ma non vengo. Ma non vengo. Ma non vengo con la pistola. Vengo con la ciolla, la pistolina. Round start. 35% São OFF ramade. онд 1974. Abbiamo lasciato, non ho capitato! Però... www.carri.co pelo.. Qui c'è lo vengo uguale. Ragè! PASTER IMPUBLIA! Non fanno a caisse, non mi ammazzano Te l'ho detto, se non fanno a caisse Prendetevi la win, eh si è in fondo, è sopra, sulle scale a sinistra Adesso è sceso, dietro le scale, è tornato giù Adesso riuscirà Ah, mi ha testato una calamita Che sce Che sce RUX 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 ma che belle ciolle rosse ciolle rosse con i denti toracca eh ovviamente ok quattro volte mi sembrano tutte quattro eeeh vabbè ciolle baca è san freddo guarda baca è vero sono eccolo o e per la parte questa là è qui Cosa? Cosa? Iniziamo! Mmmmm... Cosa? 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 Oh, non! Cosa? Uff... 5 morti, 5 in testa o 4